buongiorno amici ho voluto rifare il video dei tarellini perché ho provato la ricetta originale dove c'è la lessatura per farli rimanere lucidi la ricetta pugliese poi ho perfezionato anche il modo di farli andiamolo a vedere insieme bene questi sono gli ingredienti li trovate in descrizione dobbiamo fare un impasto come abbiamo fatto l'altra volta vi metto il link poi sotto nel box creare questo impasto sciogliere l'esubero con il vino ed impastare semplicemente se volete anche in planetaria un impasto veloce ok dopodiché vado a fare a tagliare divido l'impasto vedete in tanti pezzettini quindi poi o allungate così come sto facendo adesso però in questo modo non vi verranno precisissimi adesso poi vi faccio vedere anche l'altro modo è così al limite si misura che so un palmo di mano e taglio così di seguito li faccio simili poi l'errodo lo vedete sulle dito ed ecco lì qua altrimenti poi mi sono accorta che facendo così è molto più semplice vengono molto più precisi allora e allungo un pezzetto di impasto come se dovessi fare gli gnocchi e faccio i pezzettini proprio come gli gnocchi e poi ne prendo uno uno per volta e lo arrotolo lo assottiglio ecco qua in questo modo verranno quasi tutti uguali e continuo continuo così naturalmente in questo impasto io ho messo l'olio di oliva nostro quindi olio buono e altrettanto il vino e questo invece è l'altro modo allungate tagliate insomma però ho visto che è molto più semplice fare come se facessimo i gnocchi e poi dividere però se volete anche questo va bene questa è una cosa vostra come vi trovate meglio fate ok continuo il lavoro naturalmente io so che nei taralli non va il lievito c'è il vino che fa da lievito praticamente però noi che siamo amanti della pasta madre quando ci ritroviamo tanto esubero che non sappiamo che farci ci fa piacere anche metterlo dappertutto anche in questa ricetta però facendo così i taralli vengono un pochettino più friabili meno duri e quindi è anche piacevole ma soltanto l'esubero l'esubero che ha perso un po' della sua forza bene continuo il lavoro poi proverò a fare questa lessatura farò metà dei taralli lessati ho messo già l'acqua sul fuoco deve bollire a me sono venuti all'incirca 50 tarallini se volete potete raddoppiare la dose così ne fate di più ok continuo sì questo forse il metodo più più preciso con infatti fatti così con i pezzettini con i gnocchetti vengono in questo modo vengono tutti uguali allora i nostri taralli sono pronti questa è l'acqua che bolle adesso li verso dentro debbono bollire pochi minuti quindi come vengono su a galla li togliamo giriamo un attimo e possiamo anche toglierli perché basta basta un paio di minuti dovrebbero venire a galla eccoli stanno arrivando e li tolgo li tolgo li metto su un telo così si asciugano li ho messi un pochino ad asciugare poi li ho rimessi sulla carta forno infornati a 220 ho infornato anche gli altri ed eccoli qua vedete quelli lessati sono lucidi e gli altri invece no messi insieme nemmeno si nota quindi possiamo anche farli tradendo un po la ricetta originale pugliese il sapore è ottimo io ho messo la paprika e un po di finocchiella quella fina fina presa da un amico in campagna ho messo un po di pepe però potete mettere altre cose quello che volete anche il peperoncino ad esempio a chi piace bene amici spero che il video vi sia piaciuto ciao a tutti ci vediamo al prossimo ciao ciao